Noi Kepler 452 da qualche anno ci occupiamo di incontrare e mettere in scena non professionisti cercando di raccontarne la biografia. Così abbiamo cercato di individuare un tema che ci paresse centrale dentro il Giardino dei Ciliegi di Ciecov, la scomparsa di luoghi dell'anima, di posti insomma importanti per qualcuno. Noi siamo stati per 32 anni in una casa faticiente del Comune di Bologna, l'abbiamo risistemata. A un certo momento hanno deciso che quella casa li faceva comodo per altri progetti loro. Se non volete raccontare la vostra storia la racconteremo noi e voi racconterete la storia del Giardino dei Ciliegi di Ciecov. Ci interroghiamo come dice il titolo anche molto sul tema della felicità.